da questa sera il 90 su un'unica posizione questa è il 90 faccio vedere la posizione amici miei eccolo qua come vi ho fatto ieri nel mio mini corso faccio l'università faccio questi mini corso ovviamente specificatamente per quelli che stanno sulle piattaforme 45 persone e già sono troppe quindi voi che mi state seguendo sapete l'unica ruota e sapete il 90 con l'altro numero che va abbinato sono due numeri su una ruota e tutto e basta da giocare stasera, martedì e giovedì estratto su ruota unica una ruota veramente che ha dell'ingredibile vabbè ci vediamo alla 10 ciao